Ciao ragazzi al vostro schizzo, oggi siamo in un nuovo video, oggi siamo qui ad agire al Regulars Non Music di Kid e Sad Tours, questi due producer che hanno preso tutta la scena e l'hanno ficcata in un album praticamente, sono 14 tracce, io partirei con la prima, Bus Freestyle Featuring Gali, l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso, Bus Freestyle Featuring Gali, io gli darei un 5, non mi è piaciuta come canzone, non mi ha convinto tanto, io andrei con la seconda traccia, Punitino, Punitino, scusate, Punitino Featuring Rt5, l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso, Punitino Featuring Rt5, io gli darei una bella sufficienza, un 6, un 6 se lo merita, ah, un plauso ai due produttori più, quelli che hanno aggiunto dopo, che l'hanno aiutato nella produzione, un plauso perché i beat sono veramente belli, i beat sono veramente fatti bene, belli, i primi due, almeno, ora vediamo chi gli altri, ah, detto questo, io andrei ora a reagire a Turbo Digital Astro Featuring Digital Astro e Tony Boy, ascolto e poi vi dico cosa ne penso, Turbo Featuring Digital Astro e Tony Boy, 5, non mi è piaciuta per nulla, e poi un appunto su Digital Astro, io non so se un uomo o una donna, io appena ho messo Play, ho detto Madame, mi sembrava Madame, ve lo giuro mi sembrava Madame, per tutto il pezzo mi sembrava Madame, o una nonna, allora, io non so chi si è, dici, Dal Astro, perché queste, diciamo, sono emergenti, perché ce n'è parecchie emergenti in questo album, li conosco poco, conosco Nellissima Serpe, conosco Arti5, gli emergenti che vedo qui, eh, e Tony Boy, ma non li ascolto spesso, Nellissima Serpe non l'ascolto, Arti5 è quello che ascolto di più, ecco, detto questo, ora io andrei con la traccia numero 4, le bambine fanno o featuring Nellissima Serpe, Anna, Papà V e Arti5, e qui c'è anche la mano di, in produzione di Miles, Young Miles penso, detto questo, ascolto e poi vi dico cosa ne, l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso, le bambine fanno o di featuring Nellissima Serpe, Anna, Papà V, Arti5, 8, una bomba, ma una bomba, poi mi ha gasato tantissimo quando è partito, ma quella è Young Miles, e poi ragazzi, Nellissima Serpe ha spaccato, Nellissima Serpe ha spaccato, ha fatto un capolavoro, però è la migliore dell'album, perché le altre le dite tutte 5, 8, andiamo con la traccia numero 5, Ors Dance featuring Young Snap, Drafgold e Sidebaby, ascolto e poi vi dico cosa ne penso, Ors Dance featuring Young Snap, Drafgold e Sidebaby, di Do5, non mi ha convinto, non mi ha convinto per nulla, la canzone è un deciso tra il 5 e il 6, sinceramente, però fino a optato per il 5, la canzone non mi ha convinto, non mi ha piaciuta, ora io andrei con la traccia numero 6, come fai featuring Digital Astro, forse qui capirò se è un uomo o se è una donna, comunque scrivetemelo qua sotto nei commenti, se non lo capisco, io ora ascolto e poi vi dico cosa ne penso, come fai featuring Digital Astro, 5, non mi è piaciuta per nulla, non mi è piaciuta, e lui è un uomo forse, forse, no, sono quasi un uomo, andiamo con la traccia numero 7, Clap Clap Rt5, featuring Rt5 e Nick Savage, ragazzi, io mi aspetto un botto, perché Nick Savage, non lo sapete voi, ma Nick Savage mi fa aggasare, a me mi piace troppo, Nick Savage, mi piacciono troppo le sue canzoni, ad esempio, Wah, 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 oppure quella che ha fatto con, il nome ora mi sfugge, con Cush, e Victoria Secret, e mi piace troppo. L'ascolto e poi vi dico cosa ne penso. Clap Clap featuring Rt5 e Nick Savage, io li do un bel 7. Ora, potrebbe essere un po', secondo me, la strofa di Nick ha salvato il pezzo. Com'è partito, com'è partito, ragazzi, bomba, 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 la strofa. La canzone in sé per sé è una bella canzone, tutto sommato, 7. Non è che ho dato 7 solo per la strofa di Nick Savage, io ho 7, però la strofa di Nicky, diciamo, ha salvato un po' la canzone. Diciamo questo, se non c'era forse la strofa di Nicky, non saprebbe dove gli aver dato. Allora, ora andrei con la traccia numero 8, Challenger featuring Rondo da Sosa. L'ascolto e poi vi dico cosa ne penso. Challenger featuring Rondo da Sosa, che devo dire? Il solito pezzo drill di Rondo, il solito pezzo drill di Rondo. La base è sempre la stessa, tutte le parole sempre le stesse. E' una canzone di Rondo da Sosa, uguale, identica, non ti puoi sbagliare. 5, 5. Quest'album è un po' un flop, se ne salvano due canzoni per ora, due. Quest'album è veramente un po' un flop. Andiamo con la traccia numero 9, Evil Twins featuring Feneto e Melons. Con Feneto e Melons. Non so, Xiano, non so se sono italiani, americani. Comunque, l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso. Evil Twins featuring Feneto e Melons. Mi è piaciuta, mi è piaciuta, li do 6. Mi è piaciuta, questa traccia mi è piaciuta. Molto bravi i loro due, Feneto e Melons. Buon beat al bacio. E io andrei con la traccia numero 9, Evil Twins. No, scusate, terza numero 10. Chosen One featuring Lito, Digitalastro e Arti 5. L'ascolto e poi vi dico cosa ne penso. Chosen One featuring Lito, Digitalastro e Arti 5. Mi è piaciuta, mi è piaciuta, li do un bel 6. La sufficienza. Una bella canzone, ascoltabile, molto figa. Ripeto, un applauso perché hanno fatto veramente dei beat. Andiamo con la traccia numero 12, 11, scusate. Backshot featuring Axel e Flame. Axel featuring Axel e Flame. Detto questo, ora l'ascolto, questi penso siano dei emergenti. L'ascolto e poi vi dico cosa ne penso. Backshot featuring Axel e Flame. 5. La canzone non mi dice nulla, prima cosa, non mi dice proprio nulla. Non mi è piaciuta, 5. Andiamo con la traccia numero 12, 10 chiamate perse featuring Glow Red più Lucchetto. Non li conosco anche questi, penso siano, non vorrei dire cavolate, ma penso siano emergenti con loro. Tra l'altro siamo alla terz'ultima traccia. Dopo questa traccia, dopo 10 chiamate perse, ce n'è altre due e poi è finita. Io direi che l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso. 10 chiamate perse featuring Glow Red e Lucchetto. Carina, carina, di Don Bell 6. Mi è piaciuta abbastanza, mi è piaciuta abbastanza, non è che è una canzone di chissà cosa. Però carina, ascoltabile, urecchiabile. Gli diamo un bel 6. Andiamo ora con la penultima traccia, la traccia numero 13, nuovo dia featuring Tite Lovaz, 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 Lovaz. Detto questo, l'ascolto e poi vi dico cosa ne penso. 9 dia featuring De Lovaz, mi è piaciuta, non li do 6 ma li do 7, 7. Mi è piaciuta, mi è piaciuta 9 dia con De Lovaz, 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 come ne voglio dire male. Ora andiamo con l'ultima traccia, la 14esima, No Regular Music. Ora l'ascolto, poi vi dico cosa ne penso della traccia, cioè della canzone e cosa ne penso dell'album. Questa penso sia cantata da Kid e Stardust, ora non lo so come funziona. Poi vi dirò cos'era. Ora io l'ascolto, poi vi dico cosa ne penso della canzone e vi dico cosa ne penso anche dell'album. No Regular Music non posso dire nulla, era un beat alla fine. Detto questo però, prima di dire la conclusione finale ce ne va a dire. Ovviamente io non sono un critico musicale e non giustico il beat perché mi piacciono o non mi piacciono i beat a me. Non sono un critico musicale. Io dico cosa penso delle canzoni secondo il mio gusto personale. Perché, ripeto, a voi può piacere la tracce, tutte le tracce, come a me non sono piaciute. A voi non può piacere i bambini fanno o, com'era. Le bambine fanno o e a me può piacere, ma questi sono gusti personali, ovviamente. Detto questo ci ne va a dire, sull'album, non mi ha detto nulla. Quest'album non mi dice nulla, praticamente. Ci sono tre, quattro canzoni buone, belle, buone, diciamo. Poi tutto il resto è un album che non mi dice nulla. Io direi che è anche un album quasi monogeneo, perché c'è quasi solo... No, solo drill è una cavolata, perché c'è parecchia drill. Ma come ho sentito io poi, a me sembrava, eh. Non sono un esperto. Mi sembrava parecchia drill e poi tutti altri generi standard comunque. Boh, voto finale all'album, raggiungo la sufficienza, diamo la sufficienza, sei. Detto questo, io vi aspetto nel prossimo video che reagiremo all'album di Villa Banks. Spero il video vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate voi sotto nei commenti dell'album. Qual è la vostra traccia preferita? E datovi un voto simbolico, eh. E la vostra traccia meno preferita... La vostra traccia non vi è piaciuta. E datemi un voto anche a quella. Detto questo, io direi che ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao! Ciao!